Buonasera e benvenuti nella mia cucina. Buon sabato a tutti. Questa sera siamo qui assieme per prepararci una crostata di riso salata con all'interno un cuore morbido con dello stracchino e delle zucchine. Allora io adesso allontano subito il video così magari riusciamo a inquadrare bene. Ecco qua. Buonasera a tutti. Allora dicevo intanto mi scuso un po' per le luci perché purtroppo a quest'ora le luci sono un pochino diverse. Sembra che lavoro con le candele accese in realtà è tutto acceso. Buonasera, diamo un salutino. Luciano buonasera, Caterina benvenuti buonasera. Allora cominciamo immediatamente. Per realizzare questa crostata salata ci serviremo di 300 g di riso basmati che ho cotto in acqua salata a giusto proprio il tempo che si cucini va bene ed è qua pronto. Andiamo a inserirci un uovo all'interno facendo attenzione ovviamente che non cadano dei pezzettini di gusetto al massimo si tolgono è vero? Restiamo solo un po' di attenzione. Mescoliamo in tutto per creare proprio questo impasto. Allora questa crostata salata può essere una valida soluzione, una valida alternativa a tutto il concetto, a tutto il mondo delle torte salate a base di pasta sfoglia, a base di pasta brisè. Facciamo una cosina un po' più delicata. Peraltro oggi la realizziamo come piatto unico quindi su una su una tortiera che poi vi faccio vedere però può essere anche interessante l'idea di preparare anche delle mini porzioni quindi servirci di piccoli stampini va bene e fare appunto il concetto magari degli antipastini. Allora adesso io ci ho messo un uovo però consiglierei anche di metterne un secondo. Le ricette normalmente ne mettono uno però in realtà poi vi si compatta meglio con due uova quindi io ne inserisco due. Va bene, mescoliamo bene il tutto. Poi andiamo ad aggiungerci 100 grammi di grana grattugiato. Io normalmente metto quello però potrebbe essere che magari può piacere anche l'idea di inserire del pecorino grattugiato poi ovviamente ognuno in base ai propri gusti può adattare la ricetta utilizzando magari sempre le stesse dosi. Ok? Allora ecco qua. Buonasera Pino, benvenuto. Allora inseriamo il grana e così il nostro impasto è praticamente pronto. Poi vi faccio vedere anche cosa ci mettiamo all'interno. Adesso ce lo mescoliamo bene. Prendiamo la tortiera. Scusate che mi allontano. Ecco io utilizzo quest'oggi questo tipo di tortiera perché appunto mi piace l'idea di vedere poi tutta questa sagoma che resta molto molto presente. Eventualmente ad esempio sotto Natale si può pensare anche l'idea di utilizzare uno stampo ad albero quindi creare proprio una torta di riso a forma di alberello con magari oggi ci mettiamo strattino e zucchine ma potrebbe essere tipo spinaci potrebbero essere piselli quindi creare questa macchia verde così vi do qualche qualche idea che mi passa per la mente. Allora metto dell'olio di semi sulla base della tortiera perché così poi in forno la base prende questo gusto un po' tipo un po' frittino e si rende anche bella croccante all'esterno e poi all'interno resta bella morbida. Quindi adesso verso il tutto. Ecco qua. Rividiamo un po' la forma. Andiamo a fare delle belle pressioni. Scusate che appoggio da questa parte. Monia buonasera. Walter buonasera benvenuti. Siamo di cucina quest'oggi anche se è sabato ma si cucina lo stesso no? Che dite? stiamo un po' in compagnia. Allora ecco qua. Voi cosa vi preparate questa sera di buono? Avete qualche piattino da suggerire? Dopo leggo i commenti poi vi rispondo. Ci scambiamo un po' le informazioni. Ovviamente se se proverete un po' la ricetta mi fa molto piacere sapere la vostra opinione. Se avete anche qualche foto da mandare io sono più che felice. Allora praticamente noi andiamo a premere bene sul centro in modo che poi anche sui bordi si attacca bene in modo da da far sì che poi quando sarà cotta che andremo a rovesciarla nel piatto e poi a rigirarla nuovamente tutto il bordo vi resta assolutamente bello e sagomato. Allora voi dovete cercare con il cucchiaio di creare una sorta di nicchia in modo che creiamo questa parte, questo bordo ci aiutiamo anche un po' così con la mano in parte e col cucchiaio così questo interno un po' più profondo sarà la parte contenitiva del nostro ripieno. Ok? Ecco a questo punto lo abbiamo lo abbiamo preparato. La tortiera è pronta. Magari mi aiuto anche un pochino così nei bordi. Poi vedrete quando andrà in forno si creerà tutta una bella crosticina è veramente molto molto sfiziosa. Allora la tortiera l'abbiamo pronta adesso prepariamo prepariamo il composto. Allora io pensavo di inserire appunto stracchino e tortini. Allora normalmente quando parlano così di ricette di torte salate con gli interni a base di verdura non specificano spesso di cucinarle prima. Possibilmente si possono mettere anche a crudo ovviamente. Però per me è più interessante dargli una precottura. Allora le zucchine io le ho messe qui nel pentolino vedete. Ho fatto praticamente un po' di olio, un po' di cipolla e ho fatto appassire le zucchine con un po' di sale giusto 5-7 minuti. Il tempo che vi lessate il riso vi date una precottura alle zucchine. Perché così intanto si saporiscono e poi sono belle morbide. Va bene? Anche perché poi in forno la crostata resterà poi 25 minuti a 180 gradi. Quindi comunque si cucinerà. Però così sono più sapore di tè. Quindi mescoliamo assieme il composto. Allora anche qui oggi la facciamo così in una versione abbastanza delicata con dei sapori abbastanza leggeri. Però se vi piace qualcosa di più gustoso potreste pensare anche ad inserire altri tipi di formaggio. Ad esempio della gorgonzola con del radicchio o comunque sia anche con della zucca, della provola. Quindi la vostra fantasia potrà sbizzarrirsi sulle varie alternative di sapori. Ecco qua. Adesso amalgamiamo tutto il nostro composto. Allora io sul fondo della crostata ci metto comunque anche un po' di formaggio di latteria fresco. Visto che ce l'ho pensato di inserirlo. Potrebbe essere anche del galvanino o comunque qualche altra tipologia. Oppure anche semplicemente fermarsi a questo composto. Ma io la volevo rendere un pochino più golosa. Io amo i formaggi ma penso che l'abbiate capito perché spesso li inserisco. Fortunatamente adesso ci sono anche tante versioni senza lattosio e quindi si possono adattare un po' a tutte le necessità. Ecco qua. Allora ci riprendiamo la nostra crostata. Mettiamo questi cubetti sul fondo di formaggio. Ecco qui. Me li metto un pochino sparsi. Giusto un pochino per far sì che poi quando verrà servita ci sarà questo cuore morbido un po' filante che la rende assolutamente golosa. Ecco qui adesso ci mettiamo all'interno il nostro composto. Quindi vedete si prepara proprio in un attimo. È molto gradevole. Ecco qui. Adesso noi andiamo a coprire fino alla base della crostata lasciando appunto questi bordini esterni che saranno contenitivi del tutto. Ecco qui. E poi sarà pronta per essere infornata. Come dicevo prima, il forno preriscaldato a 180 gradi. Un 25 minuti sono sufficienti. Se volete alla fine potete decorare anche con qualche fettina di affettato, di prosciutto cotto, lo inserire all'ultimo se volete fare una decorazione, qualche rosellina di prosciutto giusto per chiudere un po' in bellezza e presentarla così in maniera un po' simpatica. Ecco qua. Noi l'abbiamo preparata. Adesso vado a infornarla. Vedete? Eccola qua pronta. Inforniamo. Poi magari più tardi. Quando sarà pronta vi lascio la foto con tutte le dosi. Ok? E magari tra i commenti vi lascio la diretta di questa sera così se volete dare un'occhiata la trovate. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata e ci vediamo la prossima settimana. Grazie mille. Buonasera.